Benvenuti nel mondo Devon. Devon è un marchio americano di orologi di lusso che ha fatto la sua comparsa sul mercato nel 2010, fondato da Scott Devon con sede a Los Angeles, in California. La filosofia del marchio è quella di creare orologi innovativi e unici nel loro genere, utilizzando materiali di alta qualità e tecniche di produzione all'avanguardia. Ciò che rende gli orologi Devon così speciali è il loro movimento brevettato chiamato Time Belt, che utilizza cinghie di trasmissione in poliuretano al posto del tradizionale movimento meccanico a ruote dentate. Questo sistema innovativo offre una precisione di 0,5 secondi al giorno ed è stato ispirato dalla tecnologia dei motori aeronautici. Il design degli orologi Devon è unico e moderno, con un aspetto futuristico che richiama la tecnologia avanzata. La maggior parte dei loro modelli sono caratterizzati da un grande quadrante rettangolare, un cinturino in pelle di alta qualità e una cassa in acciaio inossidabile. Gli orologi sono prodotti a mano negli Stati Uniti, con particolare attenzione ai dettagli e alla precisione. Devon è un marchio che si impegna a utilizzare materiali di alta qualità e tecniche di produzione all'avanguardia per garantire la massima qualità e durata degli orologi. Ogni orologio è prodotto con cura e attenzione al dettaglio, utilizzando materiali come l'acciaio inossidabile, il titanio e il policarbonato. Inoltre, Devon ha collaborato con importanti nomi del settore della moda, come Nike e Reebok, per creare edizioni limitate degli orologi. L'orologio Devon Tread 1 è stato anche presentato in diverse produzioni cinematografiche, tra cui il film Infinity War, dove lo si vede indossato dal plurimiliardario Tony Stark. Devon è un marchio che non teme di spingersi oltre i confini dell'innovazione e della creatività, creando orologi che sono unici nel loro genere. L'azienda è stata fondata con l'obiettivo di creare orologi innovativi e di alta qualità, e questo è proprio ciò che hanno fatto. In sintesi, Devon è un marchio di orologi americano di lusso che si distingue per la sua innovazione e la sua attenzione ai dettagli. Grazie al suo movimento brevettato a cinghia invece del tradizionale movimento meccanico, gli orologi Devon offrono una precisione di 0,5 secondi al giorno. Il loro design futuristico, l'utilizzo di materiali di alta qualità e la produzione artigianale negli Stati Uniti, li rendono unici nel loro genere. Devon è il marchio perfetto per chi cerca un orologio innovativo e di alta qualità, che si distingue per la sua creatività e la sua attenzione ai dettagli.